Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet, la Tristina ha informato la cessione a titolo definitivo del centravanti marocchino Rashida Arma al Lanerossi Vicenza Virtus. Un'operazione di mercato molto significativa in quanto Arma rappresentava quel terminale offensivo del modulo di Pavanel, essenziale per la manovra di gioco e la ricerca del gol. Detto questo, vista anche la virtuosità del club guidato da Mauro Milanese, si presuppone che l'alternativa sia già in ghiaccio. Il nome più forte è quello del Diablo, Pablo Granoce, già a Rosola Bardato dal 2007 al 2009, a oggi in uscita dallo Spezia. L'uruguayano è un classe 83, attaccante di livello per la Serie C, avendo militato in Serie A e B, collezionando 59 presenze nella massima serie con all'attivo 4 reti e ben 285 presenze tra i cadetti con 97 gol segnati, a cui si aggiungono le 21 presenze e 9 marcature in Coppa Italia. Facendo un passo indietro, la trattativa per la cessione di Rashid Arma era nell'aria da alcuni giorni. La mancata convocazione per le partite amichevoli aveva già lanciato il segnale che sul giocatore c'erano degli interessi, tra cui quello palesato del Vicenza, ora sotto la proprietà dell'eccellente imprenditore Renzo Rosso. Il 33enne Arma ha disputato una sola stagione con la maglia della Triestina. Il 18 luglio dell'anno scorso il giocatore è stato prelevato dal Pordenone per guidare l'attacco Giuliano. 34 presenze e 8 gol hanno aiutato l'Unione a ottenere una comoda salvezza, ma purtroppo non sono bastate all'obiettivo di entrare nel giro dei play-off. Le attese probabilmente erano quelle di un centravanti che andasse in doppia cifra nel numero di gol segnati, fatto che potrebbe anche aver pesato nell'umore del ragazzo su cui pendevano molte aspettative. Resta però il fatto che il sacrificio e l'apporto, anche meno visibile, di Arma per la Triestina, è stato quello di un professionista che si è sempre messo a disposizione, sia nelle giornate più floride che in quelle più difficili, in quell'asso di partite dove la Triestina, con la sindrome della paregite, non ha ottenuto i punti desiderati. I migliori auguri ad Arma per la sua carriera. Per il Rosso Labardati ora sarà tempo di definire chi sarà l'attaccante che, assieme ai nuovi acquisti e al gruppo della passata stagione, potrà portare la Triestina nel giro dei grandi della Serie C.